Ciao, in questa lezione imparerai a usare i blocchi in movimento per far andare il tuo robot avanti e indietro. Resta fino alla fine perché ti mostrerò un trucco che in pochi conoscono. Il professor Mattoncini! Cominciamo aprendo l'app Spike Prime sul nostro dispositivo, può essere un computer oppure un tablet. Adesso selezioniamo l'opzione Spike Prime. Per questa lezione useremo la base motrice di Lego Spike Prime, di cui trovate le istruzioni nell'app Spike Prime oppure sul sito legoeducation.com. E clicchiamo su Nuovo progetto, blocchi parole, crea. Ci connettiamo al robot via bluetooth, accendiamo il robot, attiviamo il bluetooth e aspettiamo che l'app trovi il nostro mattoncino. Ci connettiamo e volendo possiamo rinominarlo. Subscribe! Per la lezione di oggi ci interessiamo ai blocchi nella tavolozza movimento. Cominciamo subito dicendo di far muovere il robot in avanti. Eseguiamo il programma e vediamo che succede. Non succede niente. Quello che abbiamo visto, ve l'ho fatto apposta. Non ci credi? L'ho fatto apposta. Questo era un bug. Un bug è un difetto nel codice, per cui tu pensi che il robot faccia qualcosa, ma non lo sta facendo perché tu non gli hai detto di farlo. I robot, ricordatevi, fanno solo quello che gli dite. Eseguono i programmi. Se il programma è sbagliato, il robot farà una cosa sbagliata. E adesso debaghiamo il programma. Quello che ci siamo scordati è di specificare quali motori servono per muoversi. Quindi aggiungiamo questo blocco. Imposta motori di movimento su C più D. Una volta impostati così, uno dei motori verrà configurato in modo che la sua rotazione sia invertita a specchio rispetto all'altro. Altrimenti il robot non andrebbe dritto, ma girerebbe sul posto. A questo punto cambiamo questo numero da 10 a una rotazione. E vediamo che succede. Piccola nota storica. Si dice bug perché ai tempi in cui i computer erano grossi come armadi e i tecnici dovevano fisicamente entrare dentro queste stanze pieni di valvole elettroniche, i bug, cioè gli insetti, andavano ad annidarsi tra i contatti delle valvole perché queste valvole termoioniche erano belle calde. E a volte andavano a morire bruciati, fulminati o anche morire di morte naturale tra i contatti e quindi influenzavano fisicamente il funzionamento del computer. È rimasto il termine bug perché andare a debuggare, cioè a togliere i bug dal programma, adesso non è più una cosa fisica anche schifosa. È semplicemente andare a rimuovere i difetti dal codice. Questo blocco imposta motori di movimento e tutti i blocchi in movimento in seguito fanno muovere i motori in sincrono, cioè i motori si aspettano l'un l'altro. Se uno dei motori rallenta per qualche motivo l'altro lo aspetterà per cercare di mantenere la manovra del robot il più precisa possibile. Questi infatti non sono dei semplici motori ma sono dei servomotori, che significa che hanno al loro interno un sensore di rotazione che permette al mattoncino di controllarne finemente la posizione, la velocità e anche la sincronia tra due motori in caso di un robot mobile come questo. Se non viene cambiata esplicitamente la velocità del robot è impostata di default su 75. Per cambiare la velocità possiamo usare questo blocco per farlo andare un pochino più lento. Una rotazione non si sa bene a quanta distanza corrisponde ma possiamo far spostare il robot per una distanza ben precisa che vogliamo noi. Per fare questo dobbiamo utilizzare questo blocco dal nome, dalla traduzione orrenda, imposta a rotazione di un motore a 17,5 cm con spostamento, è una traduzione oscena. Ma il blocco nella versione originale si chiama set one motor rotation to 17,5 cm moved. Sarebbe a dire quanti centimetri fa il robot con una rotazione di una ruota? Questo 17,5 è messo qua di default perché corrisponde a quanta strada fa il robot con una rotazione utilizzando le ruote incluse nel set spike prime. Quindi lasciamolo com'è. A questo punto io qui invece di specificare una rotazione posso mettere centimetri e in particolare quanti centimetri voglio. Per esempio 10 centimetri. Adesso vi sfido a far andare il robot il più vicino possibile al bordo del tavolo senza cadere. Mi raccomando metteteci le mani. Per esempio per me potrebbe essere 30 centimetri. Uuuuh mammina rischiosissimo. Adesso vediamo come far andare il robot avanti e poi indietro. Per farlo andare indietro dovremo cambiare questa direzione. Invece di aggiungere un altro blocco dalla tavolozza a movimento e cambiare questo parametro siccome sono un programmatore e in quanto tale pigro, clicco col destro, scelgo duplica, metto il blocco qui sotto e cambio la direzione. Ed ecco il trucco che vi avevo promesso. Quando il robot inizia a diventare alto, grande, pesante e va velocissimo, quando in chioda rischia di impennarsi ma anche quando parte rischia di diventa un apetto. Oppure le ruote rischiano di slittare. Especialmente in gara questo è una cosa da evitare assolutamente. Bisogna stare molto attenti. Se ti stai preparando alle gare di robotica come World Robot Olympiad, First Lego League o RoboCup, questa tecnica ti sarà estremamente utile. E ora ti mostro il trucco per andare veloce, alla massima velocità, però senza strappi, slittamenti o saltelli. Dobbiamo utilizzare un blocco che è nell'estensione altri movimenti. Quindi apro le estensioni, clicco su altri movimenti, clicco qua e vado a aggiungere questo blocco. Imposta accelerazione del movimento su lento. A questo punto per distanze abbastanza grandi vedremo il robot accelerare, arrivare alla velocità di picco e poi rallentare prima di fermarsi. Bene, ricapitoliamo. In questo video ho imparato un monte di cose. Configurare i motori, far muovere una coppia di motori in sincrono per far andare il robot in avanti e indietro, cambiare la velocità di movimento del robot, spostarti di una distanza precisa e infine impostare un'accelerazione morbida per evitare slittamenti e strappi quando il robot si muove, pur mantenendo la velocità massima di picco. Se questa lezione ti è piaciuta, picchia forte il tasto mi piace. Se vuoi continuare questo percorso per imparare la robotica con il Lego, iscriviti al canale. Ma soprattutto continua a giocare con il Lego per mettere in pratica quello che hai imparato oggi. Non perderti la prossima lezione in cui ti mostrerò come usare altri blocchi in movimento per far sterzare e curvare il robot con precisione. Resta giovane, gioca a modino. Ciao!